Ragazza aggredita per aver chiesto la paga a Soverato, procura apre inchiesta. La procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un'inchiesta sulla vicenda di Beauty, la lavoratrice di 25 anni di origini nigeriane, aggredita dal suo datore di lavoro, titolare di un lido ristorante di Soverato in provincia di Catanzaro, perché aveva chiesto di essere pagata. La giovane che ha ripreso e trasmesso la scena dell'aggressione in una diretta social, si è presentata ieri nella sede della compagnia di Soverato, accompagnata dal suo avvocato Filomena Pedullà, per presentare la denuncia. Il presunto aggressore è Nicola Pirroncello, di 53 anni, titolare del Mare Nostrum, incensurato, figlio di un carabiniere in pensione.